Buongiorno a tutti, vedremo di essere assolutamente rapidi per esigenze giornalistiche e DTG, salutiamo anche chi è collegato online tramite Instagram, tramite Facebook, tramite i social. È una bella giornata, noi stiamo cercando di costruire un futuro di integrazione vera, di rispetto, di conoscenza, perché le diversità sono ricchezza, le diverse culture, le diverse lingue, i diversi sapori, musica, teatro, bellezza, sono ricchezza e quindi noi con oggi acceleriamo su un percorso di ascolto di tutte le comunità straniere presenti in Italia, siamo a più di 5 milioni di donne e uomini integrate, strutturate, coinvolte e quindi Tony lo faceva e lo fa da senatore da tempo. Io sono contento che Suad Sbaia abbia accettato questa bella sfida di collaborazione diretta con me e col movimento dal punto di vista dell'integrazione, dell'ascolto, della tutela delle donne vittime di fanatismi ed estremismi di vario genere e quindi da oggi Suad e Tony ascolteranno, incontreranno, coinvolgeranno, perché vogliamo essere il primo movimento politico come interlocutore vero di tutte le comunità e le associazioni straniere presenti in Italia che non hanno voglia né bisogno di farsi strumentalizzare dalla sinistra con gli ussoli o battaglie ideologiche di retroguardia. Quindi darei la parola prima a Tony per due minuti, che siano due, e poi a Suad. Grazie, grazie anche a voi per la presenza. Io ringrazio prima di tutto Matteo Salvini, il mio segretario federale, per averci affidato un nuovo compito per il quale mi sono speso in questi ultimi anni e in cui credo fortemente, moltissimo, perché è un tema che ho vissuto nella mia esperienza di vita e di integrazione e perché rappresenta davvero un nuovo modo di guardare alla presenza di milioni di immigrati residenti nel nostro paese. Oggi vado a punto perché sicuramente senza i dati la politica stessa è fondata su nulla, quindi bisogna guardare i dati per poter pianificare, gestire le problematiche che si presentano man mano che si fa la politica ovviamente. Gestire il rapporto con le comunità stranieri in Italia significa considerare milioni di persone che la politica ha trascurato negli ultimi anni, perché è distratto dal rumore se così si può chiamare. Oppure dal dibattito politico sui temi di disbarchi. Non possiamo parlare dell'immigrazione trascurando realmente quella fascia di immigrati, quella immigrazione di qualità, immigrazione reale ormai presente sul nostro paese. Oggi si parla, abbiamo secondo i dati dell'Istat aggiornata il primo gennaio 2020, quindi già un anno di ritardo, vecchio di un anno, in Italia ci sono oltre 5 milioni 300 mila stranieri regolarmente residenti. A qui aggiungo oltre un milione di persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Una cifra abbastanza che deve farci riflettere. I cittadini stranieri in Italia, secondo uno studio di solo 24 ore, non uno studio fatto da Matteo Salvini o uno studio fatto dalla Lega, uno studio di un giornale, una testata autorevole nel nostro paese, in solo 24 ore. Questi immigrati regolarmente residenti in Italia contribuiscono per il 9% del PIL del nostro paese, e cioè per circa 140 miliardi di euro. Quindi sono cifre che deve farci riflettere, di tutelare, di guardare dall'altra parte, ovviamente incentivando quelli di immigrazione di qualità in cui questo paese ha bisogno. Quindi io credo che in questi ultimi anni, nonostante la pandemia, sono fiero, sono fiero veramente di incontrare diverse comunità stranieri. Ovviamente, voluto dal mio segretario federale, perché ha sempre guardato dall'altra parte, cioè quelle immigrazioni di qualità. dobbiamo insistere su questo, dobbiamo non trascurarli, non dimenticarli, perché esistono le immigrazioni di qualità, quelle immigrazioni di cui il nostro paese veramente ha bisogno. Grazie Matteo. Grazie a te Toni per il grande lavoro fatto anche durante il lockdown, con le ambasciate, con i consolati, quindi adesso con la ripresa della vita e della diplomazia in presenza, ovviamente contiamo di essere ancora più presenti. Benvenuta SWAD, benvenuta in squadra, penso che la tua esperienza umana e professionale possa essere messa a disposizione soprattutto di tante donne vittime di una certa subcultura che deriva da un passato che in Italia, dal nostro punto di vista, non può avere più un futuro. Grazie, grazie Matteo, grazie di credere in noi e in me in particolare. Grazie, grazie a tutti. 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 istruiscono dentro casa, con il computer, su un pensiero sicuramente di una religione radicale, ma qui soprattutto, qui. Io viaggio molto, anche nel mondo arabo, devo dire, sento tanti, ecco, la gioventù è viva, adesso è uscito anche l'ultimo film, film, ha vinto a Cannes, di Casablanca, giovane ragazze libere e autodeterminate. Io qui non vedo ragazzi giovani che partecipano alla vita anche culturale, pochi, pochi, cioè pochissimi. E poi io, ecco, dicevo prima, l'Italia non è un'assista, chi lo dice perché è in mala fede. Io un'altra cosa che non accetto, quando sento la parola accoglienza, io sono per l'accoglienza, sì, ci mancherebbe altro, chi non è per l'accoglienza, ma se l'accoglienza, far venire una persona, farla stare in giro e consegnarla, già consegnata ai criminali dei scaffisti, consegnarla ai criminali nostrani, per spaccio e altro, questa non è accettabile. Uno, quando arriva in un paese, deve avere un lavoro, una casa, rispetto, diritti e tutto. Chi fa venire tanto per chi ci sono qualche accordo, non è integrato, non è diritti umani, quello è rassismo, perché se uno fa entrare in un ascensore 500 persone e quando possono entrare 4, cioè il problema, il sistema può crollare, il sistema sociale può crollare. Bisogna pensare anche a tanti, quei tanti giovani italiani, laureati, che hanno abbandonato l'Italia, quindi con la punta dei piedi, con la punta dei piedi se ne sono andati, perché non si trovano più nel nostro paese, perché non trovano lavoro. E quelli nessuno ne pensa, perché sono italiani. Io mi sono sempre occupata di diritti delle donne, lo sanno, chi mi conosce lo sa da tanti anni, mi sono presentata adesso parte civile, se certamente accettano, anche per Saman, come è stato per Hina Salem, come è stato per tutte le donne uccisi. Noi lavoriamo contro, soprattutto adesso, contro ogni radicalizzazione, soprattutto quella che è in carcere, perché purtroppo e deradicalizzare delle persone in quel modo è molto, molto difficile. Serve veramente molta, molta attenzione. Io c'è tanto da dire, ma al tempo non me lo permette, ma ci sarà modo. Ma il futuro, sì, non rimpiamoci troppo la bocca con l'accoglienza, con vogliamoci, non è così. La realtà dell'immigrato che arriva, tanto felice di arrivare forse in Occidente, intanto l'obiettivo non è quello italiano, però rimane in Italia, però rimane a fare tanto altro, tant'altro. Io penso che dobbiamo fare dei passi indietro e parlare, parlare e non inserire quella parola rassista facilmente o islamofobo che è stata aggiunta da un certo gruppo di estremismo. Certo, le moschee sono alcune, alcune per fortuna sono controllate, alcune invece lavorano sotto e quelli vanno controllati, ma questo sarà tema comunque di discussione. Grazie. Grazie a te Suad. Ascolto, ci proponiamo che la Lega diventi il punto di riferimento politico e culturale per le comunità straniere presenti in Italia, rispetto, regole e libertà. Libertà religiosa, libertà educativa, libertà di stampa, libertà di impresa, libertà di pensiero, libertà di cura. Concetto che a qualcuno a sinistra è ignoto. Repetita Juvent, visto che anche in questa occasione il governatore del Lazio o non capisce o fa finta di non capire. Per quello che riguarda l'emergenza sanitaria è dimostrato, provato, evidenziato, scientificamente studiato che sopra i 60 anni il vaccino salva la vita e quindi io non obbligo, ma invito tutti a mettere in sicurezza se stessi e la propria salute, è altrettanto dimostrato non da Matteo Salvini o da Zingaretti, per fortuna, ma dai comitati tecnici scientifici tedesco, britannico, olandese, belga, irlandese, che parlare di obbligo vaccinale per i ragazzi e i minorenni è una follia. Quindi Zingaretti studia, prima di parlare, studia, leggi, non i programmi di partito, leggi il fatto che in Gran Bretagna e in Germania, e ci parlano sempre di modello tedesco, modello tedesco, modello tedesco, prendiamolo, il modello tedesco, non solo quando fa comodo, è consigliato il vaccino sotto i 18 anni solo in presenza di altre gravi patologie, punto, perché le reazioni avverse sono numericamente molto superiori rispetto ai benefici. Il vaccino è assolutamente fondamentale, salva vita per la popolazione anziana, deve essere una libera scelta per i nostri figli e i nostri nipoti. Chiunque dica il contrario o è in mala fede o è ignorante. Non so se per Zingaretti valga l'una o l'altra cosa. Ripeto, gli manderò personalmente gli studi dei comitati tecnici scientifici tedesco e britannico, e allora se vuole litigare con Salvini può farlo sullo Ius Soli, sul DDL Zan, sui principi. Sulla salute dei figli non si scherza. Con la vita dei ragazzi di 13 anni non si scherza. Togliete la politica dai banchi delle scuole medie, per favore, e dai licei. Parlare di obbligo vaccinale per i ragazzi è folle. La libertà è libertà. Quindi io liberamente mi vaccinerò per mia scelta, non perché me lo impone qualcuno. Parlare di obbligo per quello che riguarda i ragazzini e le ragazze di 14 anni va contro la scienza, va contro il buonsenso, va contro il rispetto, va contro le libertà. E spero che i giornalisti su questo siano meno superficiali di qualche politico di sinistra. Perché con la vita non si scherza. Cioè pensare di lasciare fuori dalle classi bambini e ragazzi che non possono vaccinarsi è una follia. Stiamo tornando indietro di qualche decennio. A un periodo buio. Quindi mettiamo in sicurezza la popolazione a rischio, i fragili, i diabetici, i cardiopatici, gli asmatici. Quindi non obblighiamo contro la scienza a mettere a rischio le future generazioni. Mi sembra che il ragionamento sia di una semplicità, banalità. Magari Zingaretti sta ancora pensando al fatto che si è dimesso e è arrivato Letta. Però quando parli dei ragazzini sui banchi di scuola collega il cervello alla bocca. Deve essere una scelta dei figli e dei genitori. Non può essere un obbligo calato dall'alto. La scienza ci dice che in Italia i morti per Covid nel 95% dei casi avevano più di 60 anni e lì il vaccino funziona. Bene, non dico obbligo perché io non sono mai per l'obbligo. Cerchiamo di convincere tutta la popolazione over 60 ancora scoperta che conviene loro vaccinarsi perché evitano la morte e la terapia intensiva. Per quello che riguarda i ragazzini veramente che tristezza che certa sinistra si attacchi a questo pur di fare polemica. Quindi e mi taccio poi se ci sono domande bene altrimenti andiamo. Andiamo, fortunatamente i letti di terapia intensiva a stamattina sono vuoti per il 98% dei casi. Quindi creare allarme, paura, chiusura, multi, divieti, liste di prescrizione con una situazione che fortunatamente in questo momento è sotto controllo. Se fra un mese sarà diversa ne prenderemo ovviamente tutta la debita a considerazione. Però terrorizzare milioni di ragazzini che hanno diritto a qualche giorno di serenità è veramente meschino. Ci tenevo a dirlo perché ripeto, manderò a questi intellettuali gli studi scientifici tedeschi, olandesi, britannici e belgi così magari prima di parlare capiscono di che cosa stanno parlando. Se ci sono domande bene altrimenti... Allora, abbiamo parlato di Arcini e invece le volevo chiedere un po' due domande. Primo, come la presa che da Tornero è diventata consulente di Barattacoli? Seconda domanda, giovedì presentate il candidato di Napoli-Maretta. Io giovedì sarò a Napoli, non so dove siano gli altri, non ho le agende degli altri. Io onestamente mi interessa che sia il candidato di Tutcio al centro-destra come a Bologna, dove ero ieri, Battistina è il candidato di Tutto al centro-destra. Per quanto riguarda la Fornero, per me, con tutto il rispetto, conta men che zero. Quindi è una consulente del signor Tabacci. Io penso che per le future generazioni e i destini di questo Paese le dotte e lucubrazioni della signora Fornero avranno un riscontro pratico pressoché pari allo zero. Temi che si possa mettere la parte? Assolutamente no. Buongiorno, Elisa Saltarelli, prima pagina. Allora, la prima domanda è per il senatore Salvini. Il senatore ha saputo, ha letto, che la stampa olandese ha pubblicato un'analisi. La conclusione è stata con Salvini, c'erano meno morti e meno sbarchi. Volevo sapere se questa cosa l'ha letta e ovviamente se le ha fatto piacere, se l'ha fatta riflettere. E poi l'altra domanda invece è per Suad Sbai, che saluto personalmente. La conosco e ci tenevo a salutarla personalmente. Allora, Suad, oggi avete presentato questo percorso di ascolto, di aiuto, di confronto per chi intende realmente integrarsi nel nostro Paese. Ma a fianco a questo percorso ritenete che ci sia la necessità di intervenire a livello legislativo per andare a rompere quelle regole, quelle convenzioni che non consentono a causa del fanatismo religioso di integrarsi, soprattutto per le donne, per le bambine. Grazie. Io ringrazio la stampa olandese che si è dimostrata più attenta rispetto a certa stampa italiana. I numeri mi erano perfettamente a conoscenza, nel senso che se la matematica non è un'opinione, durante l'estate in cui ero ministro, ad oggi gli sbarchi non superavano quota 3.000, attualmente mi sembra che siamo arrivati a quota 26.000 o 27.000, quindi 26.000 è più grande di 3.000 per tutti e anche per Zingaretti. E quindi evidentemente c'erano meno sbarchi e quindi automaticamente c'erano anche meno morti. Sono contento che anche a livello internazionale si apprezzi gli sforzi per l'integrazione vera che prevedono dei limiti numerici. Venendo qua ho trovato una signora che mi ha detto io arrivo da lontano però mi raccomando tenete duro, perché noi 5 milioni di donne e uomini regolarmente presenti in Italia siamo i primi a subire le conseguenze negative di un'immigrazione di massa, perché poi veniamo messi tutti sullo stesso piano. Io che sono qua da 20 anni, lavoro, mando i figli a scuola e rispetto le regole e quello che invece va in stazione Termine o Tiburtina a far casino. E quindi il controllo di chi entra e di chi esce da un paese è primario interesse soprattutto delle popolazioni straniere residenti in Italia e questo è il nostro obiettivo. Grazie. Noi abbiamo sempre denunciato, denunciato qualsiasi, no? Sopruso sulle donne, abbiamo sempre denunciato l'estremismo, la radicalizzazione. Abbiamo fatto report, chiaro, questo tema non è che interessa tanto ultimamente la stampa, interessa più, no? Quando succede qualche fatto contrario, qualche fatto che interessa più a una parte, una certa politica, una certa sinistra, diciamola tutta. Noi, certo, la battaglia che portiamo, la battaglia per l'integrazione è quella di aiutare le donne, bambini e poi anche uomini che non vogliono allinearsi con una certa comunità estremista che non ha nulla a che vedere col mondo arabo. Uno è questo che molti giornalisti non ne parlano, ma non ha nulla a che vedere con il mondo arabo. Delle volte non guardiamo all'altra sfonda, a quello che sta succedendo, i cambiamenti. Dopo la primavera araba cosa è successo? Gli arabi, proprio anche moderati, che cosa ne pensano? Nessuno. Loro, molti giornalisti me lo chiedono. Noi vogliamo donne velate. Se ci porti nella trasmissione solo la donna velata? Se no, no. Anche questo non ci aiuta anche a cambiare mentalità, non ci aiuta a cambiare pensiero. Però siamo in una buona strada. Alla fine sono usciti tanti articoli, stiamo facendo tanto lavoro anche con altre donne del Mediterraneo, o altre donne italiane, per cercare di rallentare il processo dei fratelli musulmani, che è un progetto politico che non ha nulla a che vedere della religione. È un progetto politico, economico e sociale che va frenato come stanno facendo tanti paesi, anche arabi. Perfetto, io ho 20 secondi. Il nostro obiettivo è di riportare il Mediterraneo a essere un mare di pace, di scambi culturali, commerciali, di vita e non di morte. Ho fatto un incontro settimana scorsa con alcuni ambasciatori mediterranei del Nord Africa, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco. Quindi l'obiettivo è riportare il Mediterraneo a essere un mare di commerci, di scambi culturali, di scambi universitari, di scambi di culture e non di traffico di esseri umani. Avere buoni rapporti con l'Egitto è fondamentale. Giusto chiedere chiarezza su alcuni eventi luttuosi che si sono verificati. Non possiamo permetterci di perdere le relazioni storiche, passati, presenti e future con l'Egitto, che per noi deve essere uno dei partner principali da tutti i punti di vista. Su questo sono assolutamente chiaro. Perdonatemi perché a proposito di DL Zan ho l'incontro con alcune realtà del mondo gay alle 12 e mezza. Oggi è una giornata che spero metta la parola fine a questo scontro, sperando nel dialogo anche da questo punto di vista. E quindi ci aggiorniamo a più tardi e grazie a tutti. Buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie.